Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale, oggi presentiamo un bel volume pubblicato da Firenze University Press e si tratta della nuova opera di Giovanni Cavalcanti, edizione critica e annotata a cura di Arianna Capirossi, che abbiamo il piacere di avere nostra ospite e che ci parla di questo importante documento. Io quindi come mia abitudine lascio subito la parola alla nostra ospite in modo che ci possa raccontare di questo volume. Prego Arianna, lei. Allora innanzitutto ringrazio moltissimo Maurizio Calì e l'Associazione Italia Medievale per questa opportunità che mi viene data di parlare al pubblico di questa figura, appunto Giovanni Cavalcanti, che finora direi è stata una figura purtroppo piuttosto negletta e ingiustamente trascurata, perché normalmente che quando racconto di questo studio che ho fatto, alle persone, ai miei colleghi, dico che ho studiato un testo di Giovanni Cavalcanti, si chiedono ma chi è questo autore? Comincerei quindi illustrando, descrivendo un po' la storia, la biografia dell'autore. Giovanni Cavalcanti era un membro di un ramo decaduto dell'antica e nobile famiglia fiorentina dei Cavalcanti, vissuto tra il 1381 e il 1451 circa. Perché circa? Dunque siamo certi del suo anno di nascita che è il 1381, non è sicuro invece l'anno di morte. Diciamo che fino al 1451 abbiamo documenti che attestano Giovanni Cavalcanti in vita, mentre successivamente non ne abbiamo più. Quindi abbiamo ragione di pensare che se non è morto nel 1451 è comunque venuto a mancare in uno degli anni immediatamente successivi. Anche perché nel 1451 Giovanni Cavalcanti aveva già 70 anni, che per l'epoca comunque era un'età piuttosto avanzata. Giovanni Cavalcanti era un piccolo proprietario terriero che aveva pezzamenti nella zona di Monte Calvi e però per tutta la vita fu perseguitato dai debiti e dalla povertà. C'è anche una dichiarazione catastale in cui lui proprio dice che lui e i suoi figli avevano difficoltà a procurarsi abiti, vestiti oppure calzature. Dice proprio siamo nudi e scalzi. Sto fatto sta che insomma per tutta la vita ebbe difficoltà a mantenere se stesso e anche la propria famiglia e i propri numerosi figli e figlie. Un'altra cosa che ci dice era che da giovane per esempio lavorò come garzone alla bottega dello speziale Zanobi Raugi a Firenze. Quindi insomma era una persona che pur appartenendo, avendo questo cognome così importante, in realtà ebbe bisogno di lavorare per sopravvivere insomma perché anche questi suoi possedimenti terrieri non gli garantivano abbastanza entrate. Sappiamo anche che ebbe un incarico politico durante la sua vita, infatti nel 1422 fu capitano di parte Guelf. Non abbiamo notizia però di altri incarichi da lui ricoperti. Quale fu l'esperienza più caratterizzante della vita dell'autore e anche più dirompente fu l'esperienza della prigionia. Infatti Giovanni Cavalcanti proprio per debiti, per insolvenza fu imprigionato nel carcere delle stinche di Firenze per una decina d'anni tra il 1430 e il 1440. Questa fu un'esperienza che lo segnò molto e che però ebbe anche un lato positivo, cioè fu proprio in carcere che cominciò a scrivere le sue opere letterarie. In carcere scrisse infatti la sua opera principale che si tratta delle storie fiorentine, una cronaca che racconta gli eventi che coinvolsero il comune di Firenze tra il 1420 e il 1442. Una volta uscito dal carcere delle stinche si ritirò nella sua tenuta di Monte Calvi in Val di Pesa e lì cominciò a scrivere la nuova opera che appunto il testo di cui io mi sono occupata e di cui ho dato una nuova edizione e di cui parlerò più approfonditamente tra poco perché potrebbe sembrare un prosiego delle storie fiorentine ma non è semplicemente quello. La nuova opera comunque racconta di eventi accaduti tra il 1440 e il 1447 a Firenze in generale nella penisola italiana. L'ultima opera di Giovanni Cavalcanti è Il Trattato, si tratta di un'opera in tre libri, il primo sull'individuo, il secondo sulla famiglia e il terzo sulla politica, sulla società civile e questo rifletta un po' quella che era la tradizione fiorentina di considerare la famiglia, il microcosmo e la politica, la società civile, il macrocosmo in cui si inseriva la famiglia insomma tutto doveva essere in equilibrio dall'individuo alla famiglia alla società civile e il suo trattato sviluppa questi questi temi. Ormai spiego anche quali testi sono stati editi e quando. Allora le storie fiorentine sono state edite da Filippo Luigi Polidori già nell'ottocento e siamo nel 1838-1839 e poi nel 1900 ebbero una nuova edizione fatta da Guido Di Pino nel 1944. La nuova opera fu edita parzialmente da Filippo Luigi Polidori nel 1839 pubblicata in coda alle storie fiorentine però appunto solo per brani. La prima edizione completa della nuova opera è stata curata da Antoine Monti ed è stata pubblicata nel 1989 a Parigi. Quell'edizione, la prima completa della nuova opera sicuramente è un'edizione meritoria, contiene molti approfondimenti storici però abbiamo notato che aveva alcuni problemi, cioè ad esempio molti errori di trascrizione e alcuni errori o lacune interpretativi, pertanto ho deciso di occuparmene per dare una nuova edizione critica annotata di questo testo in modo da restituire un testo anche più filologicamente accurato, sempre basandomi sul unico codice che trasmette questa opera. Infatti la nuova opera è trasmessa da un testimone unico che è il Riccardiano 1870, conservato alla biblioteca riccardiana di Firenze. Io sono proprio ripartita da lì, da quel codice, per dare appunto una nuova edizione del testo. Per quanto riguarda il trattato, solo il terzo libro è stato edito a cura di Marcella Grendler e l'edizione è uscita nel 1973 con il titolo di Trattato politico morale. Quindi questa è la panoramica delle opere dell'autore, quindi fu anche piuttosto fecondo nonostante cominciò a scrivere alle soglie dei 50 anni e in prigioni, insomma in una situazione particolare. Per quanto riguarda l'esperienza del carcere, dell'autore posso raccontare un aneddoto che spiega come questa esperienza del carcere fu per Cavalcanti oltre che un danno anche una beffa. Infatti il carcere delle Stinche di Firenze prendeva il nome proprio dalla disfatta della famiglia Cavalcanti del secolo precedente. Cioè i Cavalcanti erano una famiglia di guelfi bianchi che ebbero problemi all'inizio del 300 dopo la presa del potere a Firenze da parte dei guelfi neri, esattamente come Dante. Cioè nel 1302 sappiamo che i guelfi neri presero il potere a Firenze e in quello stesso anno infatti esiliarono Dante. Cosa successe nel periodo successivo? I guelfi neri cercarono di espandere i loro poteri, il loro controllo anche nel contaddo fiorentino. Nel 1304 arrivarono in Val di Greve dove dominavano i Cavalcanti dal loro castello delle Stinche, appunto Cavalcanti, loro nemici guelfi bianchi. Quindi nel settembre, nell'estate del 1304 assaltarono il castello delle Stinche, lo assediarono, lo distrussero, fecero prigionieri tutti i Cavalcanti e li tradussero, li portarono a Firenze dove erano in costruzione le nuove prigioni. La costruzione di questo nuovo carcere era iniziata nel 1299, non era ancora terminato e non aveva ancora un nome questo carcere. I Cavalcanti furono i primi prigionieri di questo carcere che pertanto, anche a infamante in memoria di questo avvenimento della disfatta della famiglia Cavalcanti, venne chiamato Stinche, come il loro castello che era stato appena distrutto. Come a dire, ecco qual è il nuovo castello, la nuova abitazione dei Cavalcanti, ecco le nuove Stinche non sono nient'altro che una prigione, insomma, perché in quel caso appunto i guelfi neri avevano trionfato su una famiglia di loro nemici. Ecco, quindi Cavalcanti nel 1430 si ritrova alle Stinche, lo stesso carcere che ospitò anche i suoi avi nel secolo precedente, insomma. Questa esperienza lo segna molto e lui nutre un forte risentimento appunto verso i governatori fiorentini che gravano con le tasse la popolazione della città e secondo lui solo per avidità, non per il bene comune. Infatti una massima che Cavalcanti inserisce nel testo è questa, cioè non sono le dignità, cioè le cariche politiche che fanno gli uomini degni, ma sono gli uomini che devono dare valore agli incarichi politici. Adesso cito le sue parole. Non che le dignità faccino gli uomini degni, ma elle medesime per l'accostarsi agli indegni diventano non degne. Dunque la carica stessa, se assumita da una persona indegna, viziosa, corrotta, diventa poi nociva per la collettività. Cavalcanti inserisce anche un proverbio. Questo vedete naturalmente nei tempi delle pistolenzie, cioè delle epidemie, che al sano sapicca il morbo, ma al morbato non sapicca la santà. Cosa significa? Che alla persona sana si può attaccare la malattia, ma alla persona malata non si può attaccare la sanità. Ciò significa che l'uomo vizioso che assume una carica politica la rende impura ed è impossibile che la carica politica, che in sé sarebbe qualcosa di sublime, puro, onorevole, non può purificare un uomo che in sé è corrotto. Quindi l'unica soluzione sarebbe di dare il potere, di dare le cariche solo agli uomini virtuosi, cosa che però non avviene nella Firenze dell'epoca di Cavalcanti. Dunque, tornando alla nuova opera e al suo titolo, che cos'è? Allora, innanzitutto il titolo è stato dato dalla critica del Novecento, in particolare attribuito da Guido Di Pino, perché il codice che tramanda il testo è anepigrafo, cioè non ha un titolo. Nuova opera è però una citazione da una frase dello stesso autore. Adesso leggo dall'incipit proprio della nuova opera. Cavalcanti scrive, «Avendo posto fine la mia fortuna alle infernali carceri, cioè appena uscito dalle stinche, e ricondottomi sull'antichità del mio arido monticello, appunto Monte Calvi, e già avevo fatto fine al libro delle nuove storie». Chiama così le storie fiorentine, quindi quell'opera l'aveva già terminata. «Diliberai di fare nuova opera per la difesa del vero e ad offesa degli uomini invidiosi, aggiungendo ammaestramenti alle future genti». Quindi lo scopo di Cavalcanti davvero storico, appunto, è sempre quello di dare informazione, insegnamenti ai posteri. E appunto, qui abbiamo sentito che dice, «Diliberai decisi di fare nuova opera per la difesa del vero». Il titolo del testo è pertanto una citazione da questa frase, «Nuova opera». Il titolo era stato mantenuto dall'editore precedente, Antoine Monti, e anch'io l'ho mantenuto proprio perché altrimenti si sarebbe dovuto dare un titolo alternativo, però ho preferito mantenere questa citazione. Cosa ha di interessante e di particolare la nuova opera, anche rispetto alle precedenti storie fiorentine? Come ho già accennato, non è un semplice prosieguo dell'opera precedente. che comunque era una cronaca. La nuova opera in parte è una cronaca, però è principalmente una satira dei tempi di Cavalcanti. Infatti Cavalcanti utilizza due volte il termine satira per riferirsi a questo testo. Parla infatti di presente satiro in un punto, satiro al maschile, però appunto all'epoca c'era un'oscillazione da questo punto di vista, cioè si si poteva riferire allo stesso concetto con l'insostantivo sia al maschile che al femminile, cioè non cambiava nulla. Quindi parla in un brano di presente satiro e poi si riferisce al testo come questa iniqua satira. Iniqua, preciso, nel senso di spietata, quindi non nel senso che potremmo attribuire oggi all'aggettivo. Quindi considera questa sua opera una satira spietata dei potenti della sua epoca e in particolare dei tiranni. Infatti nella nuova opera c'è proprio una galleria dei tiranni che in quegli anni imperversavano nella penisola italica. Allora il principe dei tiranni ovviamente era Filippo Maria Visconti, duca di Milano, ma questo, identificare i Visconti, il ducato visconteo come tirannico era un po' presente in tutta la tradizione degli autori fiorentini, insomma. Un altro tiranno che identifica Cavalcanti è Francesco Sforza, che poi infatti diventerà duca di Milano. Oppure Alfonso d'Aragona, re di Napoli, che infatti fu designato come erede ideale sempre da Filippo Maria Visconti. Però qual è la cosa nuova, interessante, della nuova opera di Cavalcanti è che troviamo anche il tiranno che non ti aspetti, cioè Cosimo de' Medici. Giovanni Cavalcanti in maniera anche molto coraggiosa inserisce tra i tiranni della sua epoca anche Cosimo de' Medici. E questo è un po' l'aspetto più dirompente, coraggioso e in certo modo eversivo di questo testo di Cavalcanti. E da qui anche capiamo un po' meglio perché l'opera è sopravvissuta solo attraverso un codice, perché probabilmente era considerata anche un'opera dai contenuti delicati anche un po' pericolosi, perché poi tra 400 e 500 Firenze fu caratterizzata dal predominio della famiglia Medici. e quindi il manoscritto Riccardiano 1870 è comunque preziosissimo. Io ho ipotizzato che esisteva almeno un'altra copia, un altro codice che trasmetteva la nuova opera e che però è andato perduto. Espongo questa ipotesi in un articolo che è in corso di stampa, però appunto attualmente per conoscere il testo abbiamo a disposizione solo quel manoscritto. La nuova opera di Cavalcanti quindi è importante anche per avere una prospettiva diversa su quegli anni, su quel periodo storico e su quella che sarebbe poi diventata la Signoria dei Medici pur ancora sotto spoglie repubblicane. Cioè siamo appunto nei decenni della Signoria de facto che era cominciata a partire dal 1434 con il rientro dall'esilio di Cosimo dei Medici e la prospettiva è quella di questo autore che era un outsider, cioè lui stava effettivamente ai margini della politica fiorentina, è stato addirittura in prigione, però forse proprio per questo poteva avere uno sguardo più obiettivo e distaccato rispetto ad altri suoi colleghi che invece magari proprio perché erano vicini ai medici non potevano mettere in luce certi meccanismi anche di degenerazione delle istituzioni repubblicane che invece Cavalcanti nel suo testo coglie molto bene. Tra l'altro, sottolineo questo aspetto, cioè i testi di Giovanni Cavalcanti, in particolare le storie fiorentine e la nuova opera, furono utilizzate come fonti anche da Niccolò Machiavelli per le sue storie fiorentine e Cavalcanti fu utile a Machiavelli proprio perché nei suoi testi non si limita a registrare gli eventi, ma ne fornisce anche un'interpretazione, cosa che fa anche Machiavelli poi nella sua opera storica, spesso ispirandosi, credo, proprio a Cavalcanti. Infatti nell'introduzione ho dedicato un paragrafo proprio a Machiavelli, lettore della nuova opera per le storie fiorentine, insomma. Un punto che penso abbia interessato particolarmente Machiavelli è quello dedicato alla balia del 1444 che da Cavalcanti è considerato uno snodo particolarmente importante per il rafforzamento del controllo del potere a Firenze da parte della consorteria Filomedicea. Nel 1444 infatti c'era stato un primo scrutinio appunto per creare questa balia che però aveva eletto alcuni membri di famiglie avverse ai medici. Quindi i partigiani dei medici criticarono questo scrutinio e lo denominarono squittino cioè scrutinio del fiordaliso in maniera dispregiativa perché come spiega Cavalcanti il fiordaliso è un fiore molto bello ma ha un odore sgradevole. fuori di metafora volevano dire che sì questo scrutinio sembrava essersi svolto regolarmente ma in realtà così non era e quindi bisognava rifarlo rifarlo da capo in realtà semplicemente i partigiani dei medici vogliono controllare meglio l'esito dello scrutinio e quindi i nomi degli eletti. Quindi cosa accadde che nelle borse cioè nei sacchetti contenenti i nomi dei candidati sorteggiabili per le cariche pubbliche non furono più inseriti i nomi dei membri delle famiglie avverse ai medici tra i quali i membri della famiglia Serraigli per esempio oppure delle famiglie Baroncelli. Cavalcanti sottolinea non tutti i membri di quelle famiglie ma solo quelli che erano appunto avversi ai medici che sostanzialmente appartenevano veramente alle loro famiglie si distanziavano dai medici perché c'erano alcuni dei Serraigli alcuni dei Baroncelli che invece appartenevano alle loro famiglie solo di nome e in realtà apparteggiavano per i medici e loro quindi non furono esclusi. Vennero creati quindi dieci nuovi accoppiatori gli accoppiatori erano magistrati della Repubblica Fiorentina con l'incarico di formare gli scrutini e questa volta i dieci accoppiatori furono praticamente tutti filomedicei e la cosa interessante è che qui esplicitamente Cavalcanti chiama i dieci accoppiatori tiranni cioè utilizza questa parola più volte per definirli leggo direttamente dal testo feciano nuovo squittino scrutinio e tirannesco modo di reggimento e feciano dieci uomini accoppiatori i quali furono dieci tiranni i quali tanto bastasse la sia abominevole autorità quanto era il consueto della vita dello squittino e che innanzi che la pubblica tratta si facesse che per dieci tiranni fossero i scelti chi avesse a sedere negli alti seggi di magistrato quindi praticamente questi dieci personaggi ebbero completa libertà poi anche nello scegliere chi assegnare alle varie cariche e Cavalcanti fa i nomi di questi dieci tiranni ed è interessante vederne almeno alcuni allora uno era Luca di Buonacorso Pitti che poi è rimasto conosciuto anche per aver avviato la costruzione di Palazzo Pitti e la cosa interessante è che lui era già stato membro della balia del 1434 che garantì il rientro di Cosimo dall'esilio e se si va a controllare praticamente tutti questi dieci accoppiatori erano già stati membri della balia del 1434 quindi di nuovo si era formato una balia completamente filomedicea un altro di questi accoppiatori tiranni appunto secondo Cavalcanti era Tommaso di Lorenzetto Soderini Tommaso di Lorenzetto Soderini fu tra l'altro uno dei principali fautori del potere poi del ventenne Lorenzo De Medici questo per spiegare proprio che queste persone avevano anche dei rapporti amicali anche con Cosimo e con la sua famiglia il figlio di Tommaso Soderini fu il famoso Pier Soderini poi fu collaboratore appunto di Lorenzo De Medici e di Piero Il Fatuo e poi appunto Pier Soderini è rimasto famoso come gonfaloniera vita nella Repubblica del 1498 1512 coadjuvato dal segretario appunto Niccolò Machiavelli ma appunto in questi primi tempi lui fu molto vicino ai Medici lavorò per i Medici come già il padre appunto Tommaso Soderini un altro di questi tiranni Francesco di Cambio Orlandi che ebbe particolare familiarità e dimestichezza con i figli di Cosimo Piero e Giovanni che tra l'altro lo scensero come padrino dei propri figli e lui fu più di una volta copiatore figlio Mediceo per esempio sì direi che possiamo considerarla più che esaustiva no questa questa video sì sì era solo per mostrare degli esempi proprio più interessanti dei passaggi più interessanti del testo di Cavalcanti insomma che dà una prospettiva nuova sulla storia dei suoi anni che poi appunto viene recepita tra l'altro proprio da da Machiavelli beh direi che certe cose non cambiano mai comunque sembra di sentir parlare della politica dei nostri giorni quindi è interessante come come situazione e come intrecci soprattutto è interessante che una una persona che che è indigente che non ce la fa che finisce in galera per inadempienza e tutto quanto poi si ritrovi a scrivere come 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 un letterato vero e proprio io a questo punto ricordo ai nostri lettori il titolo in modo che possano correre in libreria ad acquistarlo e il titolo è nuova opera edizione critica e annotata a cura di Arianna Capirossi che abbiamo avuto piacere di avere nostra gradita ospite è stata pubblicata da Firenze University Press io ringrazio tantissimo la nostra ospite a tutti voi ricordo di continuare a seguirci sul canale nostro canale youtube dove trovate tutte le nostre video presentazioni grazie ancora Arianna grazie a lei grazie a tutti voi per l'ascolto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti